Amici di Sport Italia, un cordiale saluto da parte di Matteo Gandini, benvenuti al centro tecnico Nicolo Galli di Casteldebole per Bologna contro Roma, ventisesima giornata del campionato Primavera 1. Poi c'è il testo vincente di Kasper Urbanski, Bologna in vantaggio, gol splendido, con la palla nel 7 dove Mastrantonio non può arrivare, il forcing bolognese porta risultati importanti, 1-0 per il Rosso Blu. Sulla palla vagante il più lesto ad arrivare è Pananin che la mette in mezzo, il raddoppio del Bologna, Raimondo fa 2-0 al sedicesimo minuto, colpo di testa vincente di Antonio Raimondo. Bologna che ha controllato il vantaggio, attenzione adesso allo spunto in area di rigore, 3-0, il tris del Bologna, il gol realizzato da Pietrelli. Bologna 3-0, la chiude molto probabilmente Pietrelli all'85esimo, finisce così, il Bologna vince 3-0 sulla Roma e ottiene la vittoria stagionale numero 10 per i giallorossi, quarta sconfitta dell'anno.